Personalità di prestigio hanno preso parte all'Aurum di Pescara al convegno 120 anni di Federcalcio, dalla storia a una nuova vittoria. Evento all'interno della quattro giorni che culminerà con la finale playoff di Serie C di domani sera allo stadio adiretico Cornacchia. Un incontro moderato dal direttore di Sport Economy Marcel Vulpis e che ha visto interventi quali quelli di Giorgio Burrè, d'un autore del volume celebrativo dei 120 anni della Federcalcio, il vice direttore di Sky Sport Matteo Marani e soprattutto l'ex presidente federale Giancarlo Abete e il golden boy Gianni Rivera, fuoriclasse del Milan e della Nazionale Azzurra. Convegno che guarda caso si celebra nel giorno di inaugurazione del mondiale, coincidenza verso la quale Abete e Rivera hanno approcci differenti. Ormai è da un po' che siamo amari, quindi è ora di smetterla perché ormai dovremmo averla digerita questa situazione, quindi vediamo gli altri e intanto ci prepariamo per i prossimi. Iniziano i mondiali e noi festeggiamo qui a Pescara i 120 anni della federazione e questo ovviamente determina un po' di tristezza. Pallone d'oro nel 69, Rivera nel suo intervento ha ribadito che dovrà tornare il momento in cui un italiano potrà di nuovo vincere il più prestigioso tra i trofei individuali. Bisogna superare questo momento di grave impasse del calcio italiano, Rivera prova a dare la sua ricetta. Il problema è cominciare dai giovani, se non si torna a credere nell'attività dei settori giovanili il futuro del calcio rimarrà sempre legato all'attività dei paesi stranieri i quali hanno giocatori di livello e però vanno dove ci sono tanti soldi. In Italia non ci sono più così tanti soldi come ci sono in altri paesi e quindi bisogna adeguarsi e puntare sui settori giovanili locali. Speriamo che le società, soprattutto quelle professionistiche, si convincano che sia questo il percorso. Di missionario da presidente federale nel 2014, Abete è pronto a tornare alla guida della Federcalcio con il sostegno di Lega di Serie C, LND, Asso Calciatori e AIA ma la fase di commissariamento sembra destinata a protrarsi. Anche in relazione all'ultima giunta del CONI che si è svolta a Trieste due giorni fa, sembra allontanarsi l'ipotesi del voto ad agosto perché probabilmente si porrà un problema di approvare prima alcuni principi del CONI da riportare poi in sede statutaria. Però questo non fa altro che allontanare un percorso di normalità, nel senso che ogni organizzazione vive nella normalità. Il commissariamento può durare tre mesi, sei mesi, nove mesi ma comunque è sempre un incidente di percorso all'interno di una normalità che vede tutte le associazioni vivere dal consenso dal basso.